Musica Ciao ragazze, bentornati sul canale Oggi finalmente un video dove parliamo un po' di make up dove vi mostro alcuni prodotti dove vi swatch e come avrete visto dall'anteprima oggi parliamo di un marchio famosissimo vale a dire Uda Beauty sono contentissima perché finalmente sono riuscita ad acquistare anch'io due prodottini di questo brand che in questo periodo sta spopolando veramente in tutto il mondo è famosissimo i suoi prodotti sono i più venduti i più richiesti i più amati è un brand veramente bellissimo la sua fondatrice è una blogger una beauty blogger pensate che su Instagram ha più di 3 milioni di follower più di Chiara Ferragni e la Ferragni non ne ha pochi sto parlando di Uda Kattan che appunto ha fondato questo suo brand e ha creato dei prodotti che sono veramente bellissimi e noi donne la ringraziamo perché nelle sue ciglia finte pensate che sono le più famose in tutto il mondo sono le più vendute anche Kim Kardashian compra le ciglia finte di Uda Beauty e quindi pensate un pochettino quanto è diventata famosa ma soprattutto quanto siano buoni e validi i suoi prodotti allora premetto che non ho acquistato questi prodotti dal sito di Sephora perché adesso Uda Beauty dopo Kat Von D e dopo Becca è uno dei brand che sarà possibile acquistare in tutti i negozi Sephora al momento credo che siano disponibili solamente sul sito online o forse in qualche negozio di Roma o di Milano però ancora il marchio non è presente in tutti i punti vendita fisici di Sephora ma bensì io li ho acquistati da questo sito qua che si chiama Cult Beauty ed è un sito inglese dove ci sono tutti i marchi più famosi e professionali di make up come Charlotte Tilbury come appunto Anastasia Beverly Hills come Tarte, come Becca e tanti 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 altri e anche tantissimi prodotti per la Cosmesi in generale per quale motivo non li ho acquistati da Sephora? perché hanno un prezzo secondo me un pochettino troppo alto va bene che si tratta di un brand nuovo, famosissimo, di buonissima qualità però io su questo sito li ho pagati di meno quindi sono contentissima perché ho risparmiato anche qualcosina ma veniamo a noi, veniamo ai due prodotti che ho acquistato ho acquistato uno dei pezzi forti della collezione di Huda Beauty e ho preso questa palette qui famosissimo il packaging con questo sguardo ammaliante che penso sia proprio lo sguardo di Huda infatti questi occhi sono famosissimi perché sono il pack anche delle sue ciglia finte che come vi dicevo prima sono le più vendute in tutto il mondo sono famosissime e sono bellissime i colori metallizzati vi devo confessare che sono quelli che non vedo l'ora di provare infatti se fate caso alcune cialdine sono ancora nuove e non le ho toccate mentre alcuni dei colori metallizzati ci ho già messo un po' il dito per farmi qualche swatch così per vedere subito la qualità vi posso assicurare che sono dei colori veramente super pigmentati, super intensi infatti vi farò vedere anche lo swatch di queste cialdine così potrete vedere effettivamente la resa e l'intensità di questi colori sulla pelle e i colori appunto metallizzati, i colori shimmer hanno questa texture cremosa che si fonde subito benissimo con la palpebra e che anche con il calore delle dita si scioglie subito e rilascia veramente tutte le perlescente quindi è una palette veramente bellissima io non vedo l'ora di metterla alla prova e di creare un pochettino di make up particolari il colore nero che si chiama black truffle funziona anche da eyeliner infatti con un pennellino in umidito lo potete utilizzare per tracciare anche delle righe di eyeliner per quanto riguarda invece la tinta il colore che ho acquistato io appunto è questo qui che si chiama video star ed è quello che sto indossando sulle labbra in questo video l'ho voluto indossare così potete subito vedere la resa di questo prodotto sulle labbra vi posso dire che applicarlo è stato veramente facilissimo e la cosa che mi ha colpito subito appena aperta la confezione è stato il suo profumo un profumo dolce, un profumo molto buono e applicandolo la cosa che mi ha colpito è stata la texture veramente semplice da applicare si asciuga in maniera abbastanza veloce non lascia le labbra secche il colore è pieno, omogeneo e l'applicatore non è di quelli sottili, piccolini come per esempio l'applicatore delle tinte labbra di Kat Von D con il quale faccio un po' più fatica ad applicare in maniera impeccabile il prodotto con questo qui invece avendo un applicatore un pochettino più grosso che adesso ve lo faccio vedere vi faccio vedere il pack come è fatto, come si presenta e c'è la famosa immagine appunto delle labbra con in mezzo, in bocca il tubetto delle tinte labbra non so se seguite anche voi Uda Beauty su Instagram ma spesso e volentieri fanno vedere appunto le applicazioni di queste tinte sulle labbra con poi all'interno il prodotto preso diciamo a morsi fra le labbra foto che se dovessi provare a fare io sembrerei una cretina, una deficiente mentre invece su Instagram lei o le ragazze appunto che utilizzano i suoi prodotti sembrano sempre delle fighe pazzesche con queste pose e così sexy vabbè comunque non la mingiamoci il pack anche è carinissimo, mi piace molto questo pack opaco per la parte sotto il tappino invece è nero, non è nulla di particolare se volete vi dico anche quanti ml ci sono ci sono 5 ml di prodotto all'interno che non sono pochi e vi faccio vedere l'applicatore di cui vi parlavo e ha questo profumo buonissimo come vedete l'applicatore non è piccolissimo, non è sottilissimo quindi riuscite ad applicare specialmente nella zona dei contorni delle labbra il prodotto senza che vada in giro infatti non è troppo liquido quindi dove lo mettete rimane, non sbava quindi ragazze questi erano i due prodotti che ho acquistato di Huda Beauty non vi nascondo che mi piacerebbe appunto acquistare altre tinte per le labbra o acquistare anche la palette di illuminanti però come vi ripeto hanno un costo abbastanza elevato quindi mi sono tolta lo sfizio con questi due prodotti adesso li testerò, li metterò alla prova e magari riuscirò a fare anche qualche video mi preparo con voi dove utilizzo la palette e vi faccio vedere appunto i colori, come si comportano all'opera spero che questo video vi sia piaciuto spolliciate se piace anche a voi questo brand se vi piace Huda Beauty io vi ricordo di seguirmi anche sui social sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram da poco ho scaricato anche i 21 buttons quindi mi sto divertendo a pubblicare anche lì alcune foto di outfit quindi se siete anche voi degli amanti dello shopping, dell'abbigliamento seguitemi anche lì e se volete continuare a guardare tutti i miei video dovete iscrivervi al canale e cliccare anche sulla campanella così rimarrete sempre aggiornate su tutti i nuovi video che io pubblico qua sulla piattaforma vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao